Io sono Anora e Anna Michelini del book blog del Salone e vorremmo chiederle, siccome oggi si è parlato molto di come dovremmo essere guardiani e non invasori del mondo che ci circonda, crede veramente che potremmo osservare un cambio di qualità in questa prospettiva magari grazie alle menti dei giovani? Io credo, ne sono convinta che questo è il momento dei giovani, è il momento in cui i giovani possono smuovere gli adulti a fare delle cose in cui i giovani credono, lo stiamo vedendo su moltissimi fronti, veramente in tutto l'arcobaleno dai diritti delle persone alle tematiche dell'ambiente, alle tematiche di salute e quindi è il momento in cui i giovani hanno una marcia in più. Grazie. Dovete martellare i genitori per convincerli di fare certe cose, come non buttare le medicine nella spazzatura, no? Quella è una cosa facile da fare. Grazie mille. Grazie.